ciao a tutti ragazzi eccoci qua per una recensione veloce veloce su due prodotti molto carini che mi sono arrivati tramite un amico che me li ha gentilmente donati e adesso vi mostro un attimo che cosa sono si tratta di oggetti inerenti tema pacman quindi videoludico però che esulano dall'ambiente videoludico perché queste sono delle tovagliette delle tovagliette quelle che vengono utilizzate come sotto da mettere sotto le i piatti quindi da mettere sul tavolo e facciamo un attimo l'unboxing vedete infatti qua viene viene mostrato per cosa servono facciamo un attimo l'unboxing di questo prodotto e poi faremo l'unboxing anche di un altro prodotto come vedete questo è a tema pacman sinceramente non vi so dire se ci sono altri temi perché aspettate allora da qui si apre perché non non mi sono informato a riguardo eccole qua sono davvero 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 belline vi dico subito che queste probabilmente saranno una di queste sarà la mia nuova base per i prossimi video perché è veramente graziosa avete fatto che sono belle grandi quindi comunque sia possono contenere un sacco di cose per farvi capire un attimo le dimensioni vi faccio vedere così con quello che ho in questo momento ho anche un gatto per esempio fatti fai vedere così vediamo le dimensioni ecco ecco queste sono le dimensioni no comunque per farvi capire vedete queste sono un attimo le dimensioni del della tovaglietta questo qua è il game and watch di zelda che tra l'altro io è da una vita che non accendo ho scoperto che la carica residua la carica residua è ancora bella bella presente nel senso non si scarica come anche quello di mario c'è una cosa incredibile se lo tieni stand by dura una vita bella sorpresa ecco questo era uno dei due prodotti che mi ha mandato quindi due tovagliette per il per il tavolo che vi dico appunto utilizzerò anche per i video e poi abbiamo questo e questo è fantastico secondo sempre a tema pacman io c'ho una fissa con pacman ragazzi che voi non avete idea allora che cos'è sono il sale e il pepe di pacman quindi appunto contenitori per sale e pepe di pacman anche qui andiamo a fare l'unboxing l'unboxing perché non l'ho ancora effettuato aspettavo di fare il video per farvelo vedere con me ed eccoli qua in ceramica per cui sono proprio qua abbiamo anche la scritta questo scritto pacman bandai namco appunto dove che si vede bene questo è il fantasmino questo fantasmino anche un nome nello specifico adesso io sinceramente non mi ricordo il nome di questo fantasma il gatto nel frattempo passa dico vai vai sei nell'inquadratura anche qui vedete c'è la scritta appunto pacman bandai innamco entertainment e allora pacman è il pepe perché ha due fori mentre invece il fantasmino azzurro è il sale perché ne ha tre e comunque vi dico è ceramica smaltata quindi appunto molto molto valida e davvero bello è davvero bello anche questo bellissimo qua abbiamo il nostro tappino per metterci il sale cioè per metterci il pepe da questa parte sale da questa e quindi insomma questi sono i due prodotti che mi sono arrivati regalatemi da questo amico e ragazzi io le li adoro guardate che belli che sono dio mio sono fantastici potrebbero rimanere così secondo me anche incorniciati sarebbe farebbero la sua la loro porca figura anche così niente ragazzi volevo farvi vedere un attimo questi prodotti non è che ci sia molto altro da dire appunto se non che li trovate penso anche su amazon non ho idea di quanto costino mi sono stati regalati e quindi appunto non sono andato a indagare più di tanto però appunto penso che su amazon li potete trovare tranquillamente e non so se sono dei prodotti che si trovano anche in negozio tipo da primark o qualche altro prodotto sinceramente c'è qualche altro qualche altro negozio fisico c'era adesso non mi ricordo il nome specifico un negozietto qua dalle mie parti che si chiama xperia qualcosa del genere che ha qualcosa a tema pacman ma questi non ce li aveva questi non ce li aveva e sono bellissimi io adesso vi faccio vedere un attimo una cosa se la trovo che avevo acquistato appunto a tema pacman se rimanete un attimo in attesa vi faccio vedere così velocemente eccoci qua eccelsa si chiama eccola qua vedete questa è un'altra cosa questa l'avevo presa io questa è il un contenitore a tema pacman dove appunto abbiamo le ciliegie e appunto anche qua vedete pacman bandai nanco questo è un contenitore per un po tutto perché appunto è il microondabile lavabile lavastoviglie e io io ci ho messo i biscotti e questi mi riporta lavoro ecco questi sono i prodotti culinari diciamo così culinari a tema pacman che ho anche in casa però vedrò di recuperarne altri perché io pacman come vi ho detto ne vado veramente pazzo bene ragazzi con questo è tutto con questo video io vi saluto se vi è piaciuto il video mettete mi piace e mi raccomando iscrivetevi a me ciao a tutti